Io non mi capacito e non riesco a capire l'accanimento nei miei confronti, nei confronti della mia attività. E' arrabbiato e allo stesso tempo stremato Raffaello Caccese, titolare del bar Al Racanà in zona Sassonia a Fano, che si vedrà nei prossimi cinque giorni chiudere il proprio locale insieme alla rimozione dei tavolini posti all'esterno dell'attività sul suolo pubblico. Raffaello spieghiamo che cosa è successo. Dei tavolini sulla strada, di fronte al mio locale, sono stati ritenuti abusivi. Praticamente è accaduto che noi due mesi fa abbiamo ottenuto il permesso pagando 1.900 euro, la tassa comunale. E il giorno stesso questo permesso ci è stato revocato. Allora noi volevamo capire il perché c'è stata questa revoca, il perché è stata così imminente il giorno stesso. Nel senso che non è possibile che la mattina ti lasciano il permesso e la sera viene revocato. Quindi noi vogliamo chiedere alla giunta, al sindaco, all'assessore, alla polizia municipale, a chi è di competenza, perché solo noi a Fano non abbiamo ottenuto il permesso come tutti gli altri. Anzi, noi abbiamo la possibilità di non attraversare la strada, anzi il nostro permesso è qui, di fronte ai nostri parcheggi. Non dobbiamo attraversare strada, non c'è pericolo, è stato delimitato con le corde. È tutto ok. Perché non possiamo lavorare? Perché non abbiamo diritto al lavoro come tutti gli altri? Volevo capire perché attività limitrofe possono usufruire dei parcheggi, dei parcheggi blu in centro, il porto è pieno di tavoli, alcune attività devono attraversare i camerieri la strada, sono in pericolo, nel senso comunque ci sono le macchine. Infatti i parcheggi occupati sono soltanto due e la rimozione di questo piccolo spazio esterno toglierebbe al locale 40 posti a sedere. Questi tavoli una volta che li tolgo devo licenziare due persone, due persone che hanno famiglia, che lavorano per che cosa? Per dare la possibilità di cosa? Di togliere questo giardino, di due posti auto, di togliere questo giardino che abbiamo creato in Sassonia, un angolo della Sassonia dove non c'era niente, dove la Sassonia era morta. Noi abbiamo portato la vita, i giovani, in Sassonia. I giovani non sapevano neanche che esisteva quest'angolo della Sassonia. Abbiamo riportato la gioventù e la gente è felice, è felice di venire a fare l'aperitivo, è felice di andare nell'attività limitrofe perché comunque siamo tutti quanti una famiglia. Inoltre nella giornata di domani il locale doveva ospitare diverse persone. Il danno è grande perché comunque domani io avevo un matrimonio, avevo il matrimonio di una persona che ho dovuto dirgli che non posso farlo. Mi riserverò di chiedere danni, di fare tutto quanto il ricorso al TAR, tutte cose qua, tutto quello che è possibile fare. Il nostro è un appello al sindaco, all'assessore al turismo, alla Cucchiarini, all'assessore della Polizia Municipale Cucchiarini, a capire perché c'è questo acconimento nei miei confronti. Grazie.